Sono 21 i parametri su cui il Ministero della Salute si è basato per decidere di far scattare anche in Toscana da questo mercoledì il regime di zona arancione. Tra questi ce n'è uno in particolare che, seppur lasciando spazio a una doppia interpretazione, offre una fotografia immediata dell'andamento del contagio. Questo dato è la percentuale dei tamponi positivi sul totale dei soggetti testati quotidianamente. È un dato di particolare interesse per misurare l'aggressività del virus in questa fase autunnale della pandemia e purtroppo finora è sempre aumentato. In estate, sebbene i tamponi fossero diverse migliaia ogni giorno, questo dato era sceso vicino allo zero, segno che il virus stava circolando debolmente. Da qualche settimana invece è risalito fino alla quota del 30% di tamponi positivi superata negli ultimi tre bollettini. In pratica un toscano ogni tre sottoposto a test sta risultando colpito da covid. Anche in giornate come sabato scorso, come il 30 ottobre, nelle quali si è toccato il record di nuovi contagi giornalieri, si era poco sopra il 25% dei positivi, vale a dire uno ogni quattro persone testate. Anche per questo servono restrizioni più severe. Oltre al numero dei nuovi malati, la regione si attende di veder scendere la percentuale di positivi. Ci aspettiamo che la curva pieghi verso il basso e che queste misure ulteriormente restrittive servono appunto a stabilizzare la curva del contagio e poi appunto farla piegare diciamo in direzione negativa. Come detto il rapporto tra positivi e soggetti testati si presta a una doppia lettura. L'aumento della percentuale può dipendere anche da una maggiore capacità di tracciare i contatti stretti dei contagiati ed eseguire così i tamponi in maniera più mirata. Una visione ottimistica che però si scontra con l'affollamento sempre maggiore dei posti letto covid negli ospedali. Bisogna scendere ecco bisogna scendere almeno sotto i 1500 contagi diciamo per cercare di riportare a un equilibrio diciamo una situazione che se no determina un eccesso di sofferenze e di pressione sul sistema sanitario.